un'utilitaria full hybrid a meno di 20 mila euro avete capito bene è la mg3 con i suoi 411 cm di lunghezza la mg3 è un'utilitaria un po grande nelle dimensioni ma comunque sempre compatta ed è già disponibile perché in vendita da maggio 2024 con prezzi dicevamo competitivi perché partono da 19.990 euro per la versione meno costosa che comunque ha già tutto di serie l'indispensabile e anche ben sette anni di garanzia ma guardiamolo un attimo da fuori quest'auto che è un aspetto che ricorda un po la più grande mg4 quindi delle linee con un frontale un po a freccia con una parte inferiore piuttosto aggressiva con questa ampia presa d'aria due spoiler molto vistosi nella zona inferiori qui in tinta con la carrozzeria più quello più in basso tipo fibre di carbonio e poi i fari a freccia che sono proprio un po il tratto distintivo delle mg la fiancata invece è più morbida perché c'è un susseguirsi di linee curve che si seguono lungo la fiancata che danno un bel movimento quindi come aspetto l'auto è sicuramente gradevole e proporzionata qui la vediamo con cerchi di 16 pollici che sono di serie anche dietro l'auto è convincente con le sue forme così arrotondate proporzionate e l'unotto che scende morbidamente verso la coda ma il pezzo forte della mg3 è la meccanica apriamo il cofano e andiamo a scoprirla eccolo qui il cuore full hybrid della mg3 si compone di un 1.5 aspirato da 102 cavalli a quattro cilindri che funziona a ciclo hackinson come molti casi per le ibride perché cosa serve questo ciclo hackinson rispetto al ciclo 8 fa disperdere meno energia perché nella fase di risalita del pistone le valvole rimangono parzialmente aperte e quindi il pistone fa per dirla proprio in parole molto semplici meno fatica a tornare su e quindi si risparmia energia questo motore ha un particolare cambio perché è un automatico di tipo idraulico quindi classico a sole tre marce sole tre marce che praticamente non ce l'ha nessuno questo perché ci hanno spiegato i tecnici della mg sono più che sufficiente per il lavoro che deve svolgere questo motore perché perché il motore elettrico è molto potente a 136 cavalli ed è alimentato da una batteria altrettanto potente per una full hybrid perché si parla di 1,8 kilowattora batteria che è montata dietro sotto il divano per non rubare spazio quindi 1,8 kilowattora per una batteria full hybrid sono tante perché di solito le concorrenti si fermano a un kilowattora questo permette di avere tanta energia per un motore potente che può muovere in molte circostanze l'auto da solo senza l'aiuto del termico infatti poi lo verificheremo dopo quando guideremo la macchina i tecnici mg dicono che fino a 80 km orari praticamente si viaggia soltanto in elettrico il motore termico subentra soltanto per ricaricare la batteria attraverso un generatore che ha quindi di fatto un secondo motore elettrico cosa succede il motore termico si avvia da solo fa girare questo generatore che ricarica la batteria e intanto però ci muoviamo con il motore elettrico poi il motore termico entra in azione anche in altre circostanze per dare per esempio una mano al motore elettrico quando è richiesta una forte accelerazione quindi insomma lui interviene sempre volendo però si viaggia quasi sempre elettrico questo fino a 80 km orari superati gli 80 km orari il motore termico è più attivo quindi passa lui il testimone di essere il protagonista a muovere le ruote anteriori che sono le ruote motrici ovviamente in questo caso quindi dagli 80 fino ai 170 km orari che è la velocità massima di questa mg è il motore termico che muove la macchina e il motore elettrico dà una mano quando serve sempre per contenere i consumi bene la potenza complessiva del sistema full hybrid quando i due motori lavorano insieme è di ben 196 cavalli beh sono tanti superiori a quelli che offre la concorrenza tant'è che la casa dichiara prestazioni quasi sportive ricordiamo che questa non è un'auto sportiva però lo 0 a 100 coperto in 8 secondi dichiarati è un bel tempo lo verificheremo quanto prima in pista con una prova più approfondita di al volante bene dopo questa spiegazione tecnica beh diamo un'occhiata agli interni della mg3 e poi ci mettiamo alla guida l'abitacolo della mg3 e sobrio accogliente perché di spazio ce n'è e ricorda un po quello della più grande berlina mg4 che è una berlina media la plancia per esempio è molto simile a questo andamento lineare quindi è poco invadente poco primente le finiture sono di discreta qualità le plastiche sono quasi tutte dure al tatto però non sono sgradevoli e la plancia è impreziosita in questa zona davanti al passeggero da un rivestimento imbottito in finta pelle con cuciture a contrasto che ci sembra riuscito sopra c'è un elemento decorativo che sembra un po di arredamento che impreziosisce un po l'ambiente che nel complesso è abbastanza austero a spiccare comunque sono i due schermi che raggruppano tutta la strumentazione i comandi quello per i servizi di bordo è di 10 pollici però è poco sviluppato in altezza e costringe un po sfogliare i menù lo vediamo dopo nel dettaglio non è proprio praticissimo più in basso ci sono una fila di tasti per le funzioni principali e poi alla base della console c'è un tunnel con un ampio porto oggetti con due prese sb una di tipo c una normale un ampio vano dove appoggiare degli oggetti ma non c'è la piasta di ricarica wireless per il telefono e due porta lattine poi qui questo grande rotore serve per inserire la marcia avanti e marcia indietro e qui poi di fianco abbiamo altri comandi il freno mano e il tasto per le modalità di guida il volante con la corona schiacciata è bello sportivo si impugna bene i comandi sono abbastanza comodi c'è anche questo cursore per selezionare i vari menu del cruscotto il cruscotto che poi vediamo meglio nel dettaglio non è molto configurabile le bocchette dell'aria non sono molto grandi però comunque oggi è una giornata relativamente calda e sono state sufficiente per rinfrescare a sufficienza l'abitacolo non sono però regolabili separatamente nel senso che non si può regolare il flusso dell'aria bisogna chiuderle di lato sostanzialmente lo schermo dell'impianto multimediale organizzato in widget quindi con i mobili che permettono di accedere alle varie funzioni per esempio qui per arrivare al climatizzatore altrimenti si può anche scegliere una schermata dove ci sono piccoli concini e con sempre tutte le funzioni principali la scomodità però qual è che ti costringe sempre entrare nel menu per esempio se io sono sul navigatore come in questo momento ma voglio regolare il climatizzatore devo per forza entrare nel menu quindi lo posso fare dallo schermo oppure schiacciando il tasto qui in basso in centro alla console quindi devo fare più passaggi sono entrato adesso nello schermo nel menu quindi posso regolare il climatizzatore come desidero la temperatura le direzioni di flussi dell'aria la velocità della ventola poi però se devo ritornare nel navigatore del vero periodo rischiacciare navigatore quindi sono più passaggi che fanno distrarre dalla guida se ci fossero state che sono due manopole in questa zona della console avrei fatto tutto senza neanche togliere lo sguardo dalla strada il multimediale è abbastanza semplice e intuitivo ed è dotato anche di android auto ed apple carplay lo schermo del cruscotto ha una grafica semplice però è abbastanza chiara anche se qualche numero per esempio questi qui in basso sono un po piccolini è configurabile soltanto in questa parte destra adesso per esempio mostra il sistema del funzionamento ibrido siamo fermi con il motore acceso e mostra che il motore termico sta alimentando la batteria infatti sta girando al minimo però con questo cursore qui sulla razza destra del volante che abbastanza semplice anche bello grosso posso sfogliare il menu e visualizzare altre informazioni come per esempio quelle relative ai dati del viaggio oppure spostandomi col cursore sempre con cursore sulla destra posso vedere altre informazioni che sono per esempio la pressione dei pneumatici piuttosto che altre info che riguardano l'automobile quindi tutto molto semplice è un po' basico se vogliamo come grafica e come opzioni però insomma quello che serve c'è in modo abbastanza chiaro qua dietro sul divano c'è una buona disponibilità di spazio per essere a bordo di un'utilitaria quindi per esempio col sedile di guida regolato sulla mia altezza che è un metro e settanta c'è molta aria tra le mie ginocchia e lo schienale quindi anche chi è alto un metro 80 85 sta bene qua dietro il divano poi è piatto quindi anche il terzo posto non è affatto scomodo e il pavimento anche lui è praticamente piatto poi ci sono delle attenzioni che stanno diventando una rarità tra le utilitarie per esempio le maniglie di appiglio nel soffitto e una vera chicca invece sono le bocchette d'aria per il climatizzatore riservato ai posti posteriori e la presa usb tutto inserito nel mobiletto più in basso c'è anche un piccolo porta oggetti a proposito dei porta oggetti nelle porte ci sono le tasche non sono tante grandi ma ci sono i pannelli porta sono tutti in plastica rigida però non hanno un aspetto sgradevole quindi su un'auto di questo prezzo di questa categoria ci può anche stare al baule della mg3 si accede facilmente dall'ampio portellone e la bocca ha una forma come vedete regolare la scomodità è che la soglia di carico è a 20 centimetri dal fondo quindi bisogna un po sollevare i sacchetti della spesa per buttarli letteralmente dentro il vano ha una forma anche lei regolare quindi si sfrutta bene è rifinito con apprezzabile sicura dispone della luce di cortesia e anche dei ganci per le borse sotto il fondo c'è un ulteriore vano ricavato da questo preformato la batteria quella normale da 12 volt oltre al kit gonfia e ripara gomme la casa parla di una capienza a divano in uso di 296 litri che non sono male per un'auto full hybrid di queste dimensioni ma veniamo alla guida della mg3 dunque diciamo che fino a 80 chilometri orari si viaggia praticamente solo in elettrico quindi la risposta del motore è molto pronta molto fluida si può scegliere tra tre modalità di guida che sono eco comfort e sport non c'è molta differenza tra di loro diciamo che in sport la risposta della meccanica è più più reattiva più pronta ma comunque anche in eco la macchina risponde con tutta la prontezza che serve quindi fino a 80 chilometri orari il motore elettrico la fa da protagonista però il motore termico cioè il 1.5 a benzina non sta a fermo si attiva da solo praticamente in due circostanze una quando gira a regime costante per far girare il generatore che ricarica la batteria quindi ha una funzione di ricarica altrimenti nelle accelerazioni più decise da un boost cioè una spinta in più al motore elettrico per avere una risposta più pronta all'accelerazione diciamo che la sua voce il motore termico quando gira a velocità costante per caricare la batteria praticamente non si sente mentre invece in accelerazione piena un po' si la sua voce filtra nell'abitacolo però non è che dà molto fastidio per il resto l'auto è improntata su un compromesso nel senso vuole dare un po' di agilità e ci riesce in parte con uno sterzo che abbastanza preciso non troppo demoltiplicato e delle sospensioni che si sono morbide però non eccessivamente quindi non c'è tanto coricamento nelle curve negli ingressi nelle curve però diciamo che la macchina se si guida molto cattive tende un pochino a scivolare sui pneumatici e in accelerazione quelle decise anche non necessariamente sport dove la spinta più decisa anche semplicemente in comfort è una modalità di guida normale le ruote anteriori tendono un po' a pattinare c'è un leggero ritardo l'antipattinamento interviene con un leggero ritardo e quindi i pneumatici leggermente slittano niente di grave niente di particolare lo devi anche andare un po' a cercare con una guida cattiva comunque l'auto si guida bene perché da confidenza è molto è molto intuitiva ha limiti di tenuta abbastanza elevati ma poi verificheremo poi bene in pista durante una prova strumentare di al volante per quanto riguarda invece i freni il pedale è ben modulabile la frenata rigenerativa non ha un grande stacco rispetto a quella meccanica cioè quando ci sono le pinze che mordono effettivamente i dischi si può anche regolare la frenata rigenerativa su tre livelli però è scomodo perché lo devi fare dallo schermo dell'impianto multimediale quindi entrare nel menu insomma non lo puoi fare mentre guidi perché ti distrai comunque diciamo che i livelli di frenata rigenerativa dicevamo sono tre quindi un po' di più del solito perché molte rivali ne offrono al massimo due c'è una buona differenza tra i diversi livelli diciamo che con quello medio che stiamo utilizzando adesso nel test la macchina ha un buon scorrimento quando sei in rilascio però avverti la frenata rigenerativa ma non eccessivamente da strattonarti e dare fastidio magari ai passeggeri manca la funzione one pedal però vabbè stiamo parlando di una full hybrid non di una macchina elettrica quindi non è che ce l'aspettavamo effettivamente ultima nota sulla posizione di guida che tutto sommato è abbastanza alta per essere quella di una berlina il sedile ha una buona imbottitura ha una profilatura adeguata non è eccessivamente di quelli che strizza di quelli che stringe il busto anche per chi è un po robusto come me si può regolare in altezza quello che invece manca è la regolazione in profondità per il volante che si regola soltanto in altezza beh ciò nonostante ho comunque trovato una posizione di guida più che soddisfacente il volante ha una forma sportiva perché leggermente c'è la parte superiore inferiore della corona schiacciata e diciamo che nella guida è piacevole perché ti dà l'idea di avere un volante sportivo non copre la strumentazione che è abbastanza chiara una cosa che invece ci ha dato un po fastidio è il navigatore quando è impostata la destinazione lui segnala la presenza di autovelox questo è positivo ovviamente però lo fa con un cicalino veramente molto forte che dà fastidio ed è perché è penetrante nelle orecchie e poi lo dà con tantissimo anticipo quindi si viaggia con questo cicalino che ta 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 insiste finché non arrivi sull'autoveros che dà veramente fastidio si poteva fare una cosa un pochino più soft l'MG3 che abbiamo guidato è dotata anche di sistemi di guida semi autonoma che rispetto ad altre mg che abbiamo guidato abbiamo avuto l'impressione che funzionano meglio poi li sperimenteremo meglio in una prova più approfondita perché in questo test non era previsto un tratto di autostrada ma c'era una statale a scorrimento veloce dove li abbiamo utilizzate quindi il sistema di mantenimento in corsia tiene l'auto effettivamente al centro della corsia e riesce a seguire le traiettorie seguendo le curve con buona precisione nel senso che andando a una velocità di 90 km orari abbiamo corretto con lo sterzo poche volte quindi direi che rispetto ad altre esperienze con mg sistemi di aiuto alla guida il sistema di guida semi autonoma che gestisce da solo lo sterzo la velocità la distanza dai veicoli che precedono ha un funzionamento migliore rispetto ad altre mg che abbiamo guidato bene l'MG3 è già in vendita con prezzi a partire da 19.990 euro veramente pochi per una full hybrid che ha già tutto quello che serve di serie tra cui un buon impianto multimediale il cruise control è una completa dotazione di aiuti alla guida poi gli allestimenti sono tre il più ricco costa 23 490 e di serie veramente tutto le prime consegne dell'auto iniziano già a maggio bene ma voi cosa ne pensate di questa mg3 scrivetecelo qua sotto e noi ci vediamo alla prossima